che due mi tocca sempre pulire la camera per poter registrare il video bentornati in questo nuovo video io sono Bartek questo è il mio canale e oggi andiamo a vedere quali sono i miei cinque 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 tweak preferiti che utilizzo quotidianamente quindi non perdiamo tempo andiamo a prendere il mio iphone giallo buona visione anzi attenzione prima della buona visione vi chiedo di iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche e lasciare un like se volete dare un supporto gratuito a questo canale adesso vi giuro che buona visione se siete arrivati fino qua vuol dire che sapete che cos'è il jailbreak che lo avete fatto ma vi anticipo che se non l'avete fatto ancora non andate in giro a cercare di installarlo da altri ma ho fatto dei video su come andare ad installare il jailbreak per ios 12 e anche per ios 13 ve lo lascio qua in alto a sinistra e sotto nella descrizione così avete la possibilità di andare a fare il break e tornare su questo video e poter installare i miei tweet preferiti ecco il mio telefono così allora così dovrebbe sembrare tutto un po più figo oggi come avevo detto vi faccio vedere cinque dei miei tweet preferiti allora il primo è questo qui che vi permette di fare degli effetti nella schermata con come se fosse un normalissimo dispositivo android e come si chiama si chiama cylinder in questo modo e cosa potete fare potete andare all'interno qua dentro degli effetti e potete andare a decidere uno di questi qui che quindi se io tolgo quello commesso prima ne scelgo un altro cambia anche l'animazione potete sceglierne anche un paio insieme che dovrebbe combinarli dovrebbe fare una diversa combinazione oppure potete premere su metti in ordine casuale e fate decidere voi al tweet di andare un po scegliere ogni volta adesso vi faccio vedere come si installa questo tweet andate su cercate cylinder ed è questo qui e per poterlo installare dovete andare ad installare la sorgente di big boss che vi metto sempre nella descrizione quindi andrete qua dentro il solito passaggio cylinder prendi installa riavviate il dispositivo e ve lo trovate installato il secondo tweet dei miei preferiti e quello dove posso io andare a scegliere il nome da indicare all'interno dello spazio dedicato per l'operatore non volevo che ci fosse il nome del mio operatore che sarebbe ad esempio vodafone team wind e ho deciso di mettere il mio nome con un diavoletto mio nome e la bandiera come si chiama questo tweet si chiama carri riser e vi permette di andare a modificare a piacere il nome dell'operatore e ho notato che per poter farlo funzionare almeno sul mio dispositivo necessito anche di spring class 11 setting e andare ad abilitare su status bar anche qua enable custom carrier solito processo bisogna andare su sui tweak andare a cercare questo qui e andarlo ad installare come vedete anche questo qua fa parte del big boss quindi una volta che installate il big boss avete anche questo molto comodo per chi come mi piace personalizzare il proprio telefono il terzo mio tweak preferito e smart lmp che praticamente sarebbe un smart low power mode e vi permette di andare a gestire un po meglio il consumo del vostro dispositivo cosa vi permette di fare allora innanzitutto l'ho andato ad abilitare poi vi permette di andare ad attivarlo se volete la modalità di risparmio energetico ogni volta che andate a spegnere il vostro schermo quindi se non lo utilizzate lo spegnete lo mettete in tasca e a voi non importa appunto che il dispositivo magari funzioni più del dovuto e scocchiato le dita si potete anche decidere di attivarlo mentre lo state caricando potete andare anche a decidere se deve accendersi da solo o meno arrivato ad una certa percentuale e qua ci sono anche altre impostazioni quindi ogni volta che io spengo lo schermo del mio dispositivo vedrò che qua si attiverà la modifica di risparmio energetico ora vi mostro che se questa è disattivata una volta che io spengo lo schermo la metto si mette in modo automatico quindi non devo pensarci io di andare ogni volta ad attivarlo molto comodo quando volete andare a risparmiare la batteria e anche questo lo andate a cercare all'interno di sidia ed è questo qui l'autore è smoking1337 comunque vi metto sotto nella descrizione il nome di tutte le sorgenti che vi servono per poter installare questi tweak il quarto mio preferito è ovviamente è dove sei finito è floating dock plus molto comodo perché cosa vi permette vi permette di avere questa piccola barra modalità un po ipad ed è quindi un po più comoda rispetto a quella con quattro icone giganti che non potete utilizzare al di fuori di questa schermata l'altra cosa vi permette vi permette di andare se lo attivate di andare ad impostarlo un po come lo volete quindi qua cosa vediamo vediamo che io ho attivato una funzione molto comoda che faccio uno swipe mi si apre da qualsiasi applicazione è impostato che voglio tre applicazioni recenti qua alla destra che mi faccia sempre vedere quelle che sto utilizzando quindi mi permette di andare a switchare tra un'applicazione e l'altra senza dover premere due volte il tasto per aprire le applicazioni recenti molto molto comodo tra l'altro potete anche andare ad attivare l'opzione che vi permette di utilizzarlo in maniera intelligente ovvero dock gestures quindi se io ho fatto left right swipe ho fatto che nel caso in cui io faccio così mi si attivano le notifiche quindi questa prima impostazione c'è quella da questa parte mi si attiva questo menu c'è quella swipe up che si apre il menu delle applicazioni aperte il task manager se invece ci fate il doppio tap si spegne lo schermo quindi ciao molto comodo moltissimo comodissimo tra l'altro c'è scritto anche qua il mio nome bella ora allora anche questo qua cosa fate andate su sidia andate a cercarlo eccolo qui e questo fa parte della sorgente hack your iphone che vi metto sempre nella descrizione l'ultimo ma non meno importante è quello delle applicazioni recenti quelle che avete quando premete il doppio tab io lo odio perché mi permette di vedere soltanto un'applicazione ogni volta quello stock invece questo mi permette di andare a visualizzare tutte le applicazioni in modalità un po ipad se vogliamo chiamarla e quindi mi permette di passare da una dall'altra un po modo più comodo invece di averne una sola l'altra cosa questa impostazione è combinata con dog plus in quanto c'è la gesture che se fate così si apre anche il task manager stesso procedimento andate a cercarlo all'interno di sidia eccolo qui e questo qua fa parte sempre di big boss quindi una volta che andate a installare big boss vi permette di andare qua a trovarlo all'interno di sidia poi per poterlo installare niente basta il video finisce qua ragazzi questi erano i 5 miei tweak preferiti che utilizzo quotidianamente spero che vi sia piaciuto il video vi lascio comunque il nome della sorgente che dovete andare a impostare a scaricare quindi fate voi io vi ringrazio di aver guardato questo video lasciate mi raccomando un like commentate se ci siete riusciti se non ci siete riusciti quale difficoltà avete riscontrato ho fatto un po il video in maniera un pochino diversa sto testando un po diverse cose mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e niente al prossimo video ciao